Questa serata è dedicata alla Roma moderna, la Roma che si appresta a diventare capitale d'Italia e domani ci sarà un intervento sulla Roma barocca e poi successivamente un intervento sulla Roma antica. I tre protagonisti di questi tre incontri sono nell'ordine la professoressa Claudia Conforti che è qui con noi e che ha accettato molto volentieri questo nostro invito, di cui noi siamo onorati della presenza e la ringraziamo vivamente già in anticipo. La seconda serata sarà condotta dal professor Portoghesi sulla Roma barocca e la terza dal professor Filippo Coarelli sulla Roma antica. Sono tre comunicazioni, quasi tre comizi di architettura, mi piacerebbe parlare di questo nel senso etimologico del termine, sono tre interventi che noi abbiamo deciso di coadiuvare in qualche modo con questi video di apertura dove ci saranno degli spot, quasi delle piccole dichiarazioni da parte dei docenti del Dipartimento che si occupano di queste tre grandi questioni che per noi sono in qualche modo la matrice ancora degli studi che conduciamo è anche una quota parte importante della memoria della città che come eredità trasciniamo all'interno del nostro pensiero sul suo futuro. Quindi da questo punto di vista per noi è un elemento di grande importanza e stimolo. È curioso che voi vedrete le facce che sono qui presenti all'interno del video. L'abbiamo fatto per razionalizzare un po' l'intervento e dare uno spazio minimo a questo, saranno 15 minuti, non è una cosa lunghissima e poi dopo presenteremo la nostra ospite e daremo il via alla sua comunicazione che abbiamo sempre detto e lo ribadiamo a noi piace che abbia un tono anche divulgativo mantenendo però dentro la complessità e la profondità di una comunicazione che nasce dall'università. sono tre professori che noi abbiamo guardato, ripeto, con grande interesse che sono stati dei punti di riferimento nei nostri studi. Sono in qualche modo tutte e tre, la Claudia è la più piccola ma è appena uscita, posso dirlo, dalle aule universitarie perché ha finito come dire il suo mandato dentro questa grande missione, però sono tutte e tre persone e lo voglio dire con grande convinzione che hanno cercato attraverso i loro studi, le loro ricerche di essere all'altezza del compito straordinario che hanno avuto come docenti e come studiosi. Allora, siccome stiamo tutti aspettando la professoressa Claudia Conforti, io tanto le chiederei di venire, non dirò una parola in più per presentarla, se non che Claudia Conforti ha una capacità molto rara che è quella di riuscire a presentare le architetture di oggi, anche quelle che recensisce o che presenta sulle riviste a partire da Casabella, come se fossero già delle architetture storicizzate, cioè dando loro una lettura già in una prospettiva destinata a durare e però invece sa leggere le architetture del passato come se fossero state fatte oggi e questo mi sembra che sia un grande dono ed è quello che ci aspettiamo in questo suo intervento. Grazie. Grazie. Buonasera, grazie di avere sfidato il meteo, abbiamo avuto ragione almeno per il momento e vi ringrazio di essere qui, la gran parte di voi sono amici da molti anni o allievi da molto tempo, hanno magari lasciato la scuola, quindi conoscono il mio modo di fare lezione e quindi quello che io dico può anche darsi che questa lezione in parte sia già stata sentita. Ma prima di iniziare, non è una lezione anche per la sua brevità e il carattere accentuatamente piano, conversevole che mi è stato chiesto, vorrei dedicarla a una persona che ha amato appassionatamente Roma, che ha prodotto studi fondamentali su Roma, si è impegnato come professore, come studioso, come assessore ed è stato il professore di molte delle persone che sono qui, che oggi insegnano alla sapienza ed è stato l'amico di una lunghissima avventura affettuosa di scambi e di conoscenza di molti di noi. Questa persona è Carlo Aimonino, architetto, professore, studioso della città e amante di Roma e a Carlo Aimonino, a lunghe conversazioni che abbiamo avuto a Roma e nella sua casa di campagna con gli amici, la città che io ho amato dal primo momento, io non sono romana ma ho scelto di essere romana all'età di 14 anni e ci sono riuscita all'età di 70, perché sono tenace, ho capito alcuni molti aspetti della città che ovviamente essendo incantata dalla sua straordinaria fascinazione fisica e luminosa mi erano sfuggiti. Quindi sono sicura di interpretare il sentimento di molti di voi, dedicando a Carlo Aimonino e alla sua instancabile azione per Roma come studioso e come assessore questa comunicazione. Tra l'altro a Carlo sarebbe piaciuto molto di portare in piazza i nostri problemi, di uscire dalle aule e di condividerli anche con chi specialista non è ma la città la vive, la conosce, spesso la ama o la detesta. La prima immagine che ho scelto, ora sono, lo vedete, sono un po' fuscate perché il sole non è la qualità, non è granché, però insomma anche le condizioni sono... è un'immagine che è parlante a suo modo. C'è l'antare della patria e c'è un carabiniere in pensione che fa da guida, lo sorveglie e consente che sia visitabile. Sono due elementi che rappresentano un po' la Roma moderna, a Roma capitale. La domanda che si pone, sembra porsi il carabiniere, e che certamente ci poniamo tutti quanti, è quale Roma? È una domanda costante nella storia di Roma. Io mi limito a ricordare la costruzione della Roma sacra, che non è avvenuta in un giorno. È avvenuta sostanzialmente in quattro secoli, anche se gli inizi sono molto remoti. Cioè dalla metà del Quattrocento, dal ritorno a Roma dei papi da Davignone, comincia una pazientissima costruzione di identità urbana, simbolica. Lo sforzo è quello di sottrarre a Gerusalemme lo statuto di città sacra. Non è più Gerusalemme, deve essere Roma. È uno sforzo iniziato alla metà del Quattrocento, che ha avuto dei fautori formidabili. Vi ricordo solo Giulio II, Paolo III, Sisto V, Alessandro VII, e che, perseguendo un unico progetto con modalità apparentemente diverse, sono arrivati a una incontestabile realtà. Nel momento in cui le due grandi colonne celebrative dell'impero romano vengono sovrastate dalle statue bronze degli apostoli, Roma non è più la città imperiale, non è più la città pagana, non è più la città militare che ha dominato il Mediterraneo e parte dell'Europa, ma è la città del cristianesimo e della sua versione più ecumenica, più ricca, più accogliente, più temperata, cioè quello cattolico, apostolico, romano. E là stiamo tranquilli. Una città imperiale, una città sacra e poi arriviamo noi, noi, gli italiani. La presa di Roma non avviene a Roma, avviene a Sedan. Nel momento in cui Napoleone III è sconfitto e con Sedan si chiude temporaneamente, il lungo conflitto che oppone la nazione ancora confederata tedesca a quella al potere, all'impero francese, Roma è priva, rimane priva di protezione. Le date sono importanti. Il 2 settembre del 1870 Napoleone III perde il suo ruolo e il suo potere. Il 20 settembre dello stesso anno, cioè meno di tre settimane dopo, i berzaglieri, come dicono a Roma, entrano in Roma. Ed è un fatto interessante. In meno di tre settimane l'esercito unitario da Firenze è arrivato a Roma, ha organizzato l'assedio. Pio IX ha dato l'ordine alle truppe pontifice di non rispondere al fuoco, ordine solo in parte rispettato. La città cade. Senza le truppe francesi la città è sguarnita e disarmata. I berzaglieri entrano a Roma. Immediatamente l'evento assume una dimensione eroica. La breccia di Portapie è quasi diventata un luogo comune e la pittura rincorre la fotografia. Se voi osservate nel quadro e nella fotografia vi rendete conto che in realtà è una trasposizione pittorica di una foto. Ma la foto è già al servizio dell'inganno. Quell'ingresso abbattendo una parte di mura tra Portapie e la salaria non è particolarmente eroico. C'è bisogno di una immagine da far circolare che renda l'eroismo epico di questa impresa. Che di epico aveva pochissimo in realtà perché senza resistenza. E quindi i bersaglieri vengono messi in posa sul terrapieno che i pontifici avevano costruito per evitare lo sfondamento di Portapie dove vedete che è tempestata dalle cannonate, dai cannoneggiamenti. E l'Alessandri, il fotografo, scatta la foto ufficiale, un giorno dopo, della presa di Portapie. Quindi c'è un spiazzamento logistico. La foto viene fatta non dove sono entrati i bersaglieri ma dalla porta che è un arco di trionfo e che tra l'altro è la versione esterna di Vespignani della gloriosa porta trionfale di Michelangelo in fondo alla via Pia. E questa è la realtà di Roma in quegli anni. Ed è interessante. Guardate un po' questo paesaggio. È un paesaggio agreste, è un paesaggio rurale, è un paesaggio bucolico. Non è un paesaggio metropolitano. L'unica cosa costruita al di là dei tetti di alcune ville che si vedono è la potentissima cupola di marmo bianco che Michelangelo e Giacomo della Porta hanno ideato e costruito immaginando, secondo la visionarietà michelangelesca, un enorme blocco di marmo bianco che veniva scavato per via di torre per costruire la più grande scultura architettonica del mondo. Il segno visibile, l'icona trasmissibile di Roma, città sacra, altro che Gerusalemme e le sue mura gemmate. È l'unica cosa che si vede. Tenetelo presente perché sarà molto importante per capire le scelte architettoniche successive. La brezza verrà celebrata prima con una colonna, con una vittoria alata. È la risposta laica, sicolare, unitaria, italiana e patriottica alla colonna che in piazza Mignanelli celebra, messa pochi anni prima, 1854, il dogma dell'immacolata concezione. Vedete, voi dovete pensare che Roma, si può leggere anche come una specie di rispecchiamento. Ci sono gli specchi delle varie fasi che si riflettono nella fase successiva con le stesse modalità ma con contenuti diversi. Una sorta di botte e risposta che passa attraverso i secoli, anzi attraverso i millenni. In un secondo momento l'architetto Apolloni aggiungerà, salderà, risarcirà la breccia con una edicola epigrafica in cui si ricordano i bersaglieri caduti. Ci sono stati alcuni morti nella presa di Roma ma insieme ai ricaduti nella prima guerra mondiale. È iniziata la costruzione di un risorgimento infinito. La guerra di risorgimento parte dai moti del 1815, viene cadenzata nel 48 e via via continua fino al 1943, fino alla resistenza, anzi fino al 44 con l'orribile eccidio delle fosse ardeatine. Gli italiani per diventare e restare uniti hanno bisogno di fissare attraverso una serie di lotte comuni contro uno o più avversari, la loro identità. E questo è il primo atto esplicito, pubblico, ufficiale, facilmente leggibile. Naturalmente i bersaglieri vengono celebrati, non nel luogo dove sono entrati, ma nel luogo in cui hanno fatto la fotografia. E questo è un monumento, è uno dei tanti monumenti. La Roma unitaria, Roma capitale, si riempie di monumenti. La città che i pontefice avevano voluto, solo con le madonnelle, le immagini sacre, l'unico monumento laico, era quello del Marco Aurelio ritenuto Costantino, l'unico monumento equestre, nelle strade, quasi in risposta polemica, si riempie di monumenti che migrano, si spostano da un punto all'altro della città. Anche oggi vi capiterà di ricordare un monumento in un punto che non c'è più, è stato spostato da un'altra parte. In questo caso il monumento ha una carica architettonica tale che spostarlo rende piuttosto complicata l'operazione ed è un monumento narrativo. Naturalmente c'è il bersagliere che corre alla porta, la patria e i bersaglieri, l'anno con l'era fascista, ma ci sono anche una serie. c'è la data di nascita del corpo dei bersaglieri, c'è una specie di poesia di Gabriele D'Annunzio che dedica ai bersaglieri la mia ruota, ora io non riesco a leggere, comunque la mia ruota in ogni raggio è temprata dal coraggio e sul cerchio in piedi splende la fortuna senza bende. Ma non è l'unico a fornire una frase perenne, nulla resiste al bersagliere, afferma Emanuele Filiberto di Savoia, Ducca d'Aosta. Per molto tempo Manu Anonima, tipica dello spirito romano, aveva scritto imitando il carattere epigrafico tranne Rosalba. In queste immagini vengono raccontati momenti topici sia del corpo dei bersaglieri che coincidono con la storia militare d'Italia. Shara Shat, la battaglia in Libia e il sacrificio del comandante Riva di Villa Santa nella prima guerra mondiale. Naturalmente i monumenti sono tanti, questo valga uno per tutti. Allora Roma è presa, i bersaglieri sono entrati, vediamo un po' qual è la situazione. Nel 1870 Londra ha 3 milioni e mezzo di abitanti, Parigi quasi 2 milioni, Roma ha 245 mila abitanti. L'abbiamo visto, è un grande giardino pieno di pini e di rovine. Parte un'operazione che continua ancora oggi e che ha una persistenza imbarazzante per certi versi. Cioè a Roma i piani regolatori rincorrono la realtà. Non sono prefigurazioni, non sono programmi che la disciplinano, la spingono da una parte o dall'altra. La realtà, la realtà che è fatta dalle società in questo caso, sono società imprese, il cui nome non deve ingannare. Si chiamano imprese a Torino, società fiorentina, eccetera. Sono società con capitali sia italiani sia soprattutto stranieri, svizzeri, belgi, ma anche dell'odiato nemico austriaco che investono su Roma. Roma, secondo Carazzolo, è il più grande affare economico dell'Europa della seconda metà dell'Ottocento. E la crisi della banca romana e tutto quello che ne conseguirà poi della cultura economica romana, hanno le loro premesse proprio in questa situazione. Una città piccola, con grandi mura, uno spazio vuoto, pochi abitanti, che in pochissimi anni sono destinati a crescere e a raggiungere non le dimensioni delle altre capitali europee, ma dimensioni ragguardevoli. E sempre con questa corsa, il piano regolatore che rincorre il profitto. In realtà i piani regolatori 1873, 1883, poi 1908, 1909, 1931, eccetera, fino al 2008, non riescono a condizionare in termini sistematici lo sviluppo di Roma, ma sono continuamente scavalcati da contratti che vengono stipulati sia tra lo Stato che con una legge apposita interviene nel finanziamento di Roma Capitale, doverosamente, sia con accordi con il Comune. Quindi una città destinata in qualche modo a crescere su spinte che non sono quelle degli eletti, che gli eletti democraticamente hanno scelto, ma sono le spinte di poteri di carattere finanziario ed economico, immobiliare e fondiario, e non solo, naturalmente dietro tutto questo, il potere ecclesiastico che è il proprietario di grande parte dei suoli, dentro le mura e nelle immediate vicinanze delle mura. Io non ho il tempo di parlare di tutti, quindi ho scelto tre personaggi, un ministro, un sindaco, un architetto, ho scelto le coordinate, diciamo il metodo, la strategia di questi piani e i loro punti nevralgici. In particolare, quelli che a me poi interessano particolarmente, sono le architetture scandalose. Quintino Sella, non vi sto a dire molto, se non il fatto che è un politico che oggi veramente sarebbe un marziano, intanto è un uomo colto, è un uomo convinto, convinto profondamente, che il futuro di una nazione si fondi sulla cultura, pensate. Lui è un ingegnere, un esperto di mineralogia, è lui che capisce che le miniere del Sulcis possono essere coltivate e non a caso là c'è la sua statua, è un letterato e riesce a scegliere un piano di sviluppo della città, discutibile finché si vuole ma molto limpido e riesce perfino, nonostante le forze che vi dicevo, in gran parte a farlo attuare anche dopo la sua morte. È un piano relativamente semplice. Cosa deve essere Roma? Bene, Roma non deve essere provinciale, pensate un po'. E soprattutto non deve riflettere né la cultura torinese, né quella veneziana, né quella napoletana, ma deve saper prendere della cultura italiana, scientifica, umanistica e sociale il meglio, portarlo a Roma e da Roma impastarlo e ridistribuirlo alla nazione. Si deve, a Quintino Sella, l'idea di impiantare un centro per la ricerca scientifica vicino all'asse della cultura e delle arti, che ora poi vedremo. L'altro, il sindaco, è il grande personaggio, è un momento luminoso nella città di Roma, non è un romano, nasce a Londra, il padre è un ebreo tedesco, la mamma è una italiana, mazziniana. Nathan sarà sindaco per pochissimi anni, per la prima volta non ci sarà né un conte né un principe a fare il sindaco di Roma, era una battuta che lui si faceva sfuggire spesso, ma un ebreo borghese e massone, che si dimette da maestro della massoneria, ma tuttavia massone. Anche lui, anche lui crede, è profondamente convinto, che sia la cultura il collante della nazione, non solo, ma sia la cultura scientifica. Queste persone non avevano quella infantile separazione tra una cultura alta, umanistica, e una cultura scientifica che si può anche non conoscere, perché io di matematica non ci capisco niente. No, la cultura è tutt'uno, insieme lavora, se si conosce un fronte, inevitabilmente si precipita anche nelle gore dell'altro e ci si arricchisce di tutto questo. Il terzo personaggio è un po' diverso, è un architetto. Appositamente ho preso l'architetto e non uno dei rappresentanti o governatore o il capo del governo, Benito Mussolini, perché in realtà a partire dal 1911, quando ha 30 anni, Marcello Piacentini, reso responsabile dal sindaco Napan della grande esposizione del cinquantenario dell'Unità d'Italia, riuscirà ad organizzare sui due fronti del Tevere, in corrispondenza di Valle Giulia, dove oggi c'è la Galleria di Arte Moderna di Nazionale, adesso c'è poco, comunque la Galleria di Arte Moderna che viene costruita in quelle circostanze. e tutta una serie di padiglioni culturali che diventeranno poi le accademie e gli istituti di cultura. Dall'altra parte del Tevere, invece, c'è la fiera espositiva vera e propria, con gli elementi della casa. Il problema della casa in una città che cresce velocemente, con un'immigrazione poi molto graduata, graduata al proprio interno, molto eterogenea e differenziata, è un problema di grande interesse, soprattutto di grande, in questo momento, sensibilità. E Piacentini lì si prenderà il lusso di costruire una palazzina in Via Nicotera, che ancora esiste, che è un modello di distillata eleganza internazionale. La sua azione si sviluppa attraverso il passaggio dei governi, sarà il dominus della città nel periodo fascista, con i poli, i quattro poli che, il polo dello sport, il foro Mussolini, il polo universitario, voluto, tra l'altro, da Saint-Just, e, infine, il polo di Cinecittà sulla Tuscolana e l'Eur verso il mare, sarà sempre Piacentini a distribuire questa triangolazione moderna della città. E la sua azione si conclude, con la sua morte nel 1960, con il contributo all'ultimo grande momento di innovazione della città, che sono le Olimpiadi, a cui noi, naturalmente, non arriviamo. Ecco, la scelta di Quintino Sella, ripresa dal piano di Saint-Just, è una scelta basata su delle stecche. Cioè, si assumono degli assi che si trovano già nella città, via 20 Settembre, via nazionale, non esiste, appena cominciata, tra l'altro su una formidabile speculazione di un arcivescovo belga, che è il Demerod, che aveva preventivamente acquistato diverse aree dai gesuiti in questa zona, e, infine, l'asse di Via del Corso. Questi tre assi verranno riuniti attraverso delle modifiche piuttosto consistenti dell'assetto sia morfologico del terreno, sia dell'architettura, demolizioni e ricostruzioni, qui a Piazza Venezia, per proseguire nel taglio che arriverà fino a questo punto al ponte Vittorio Emanuele del Corso Vittorio. Dunque, in realtà, le strade diventano gli elementi, il sistema portante della nuova città. Le strade che sono, guardate un po', in funzione della stazione ferroviaria. Eccole qui. Allora, questa è l'asse, la vecchia, la via Pia, la via delle ville, dei boschi, dei giardini all'italiana, dei silenziosi conventi che Pio IV aveva voluto per unire piazza del Quirinale di Monte Cavallo con la porta Arco di Trionfo, che commissiona una delle ultime opera di Michelangelo, diventa la via, l'asse direzionale. Qui, se la vuole, l'enorme, colossale Ministero delle Finanze, il Ministero della Difesa, si aggiungerà poi il Ministero dell'Agricoltura. Infine, la grande parte dei nuovi uffici si concentrano su questo asse. Ovviamente, chi viene da fuori si reca nei vari ministeri, quindi ha bisogno di alberghi. e la partenza che avverrà di Via Veneto attraverso, accanto a Santa Maria della Vittoria, quindi con la possibilità di arrivare alla Porta Salaria, viene fatta in questi stessi anni con una speculazione che passerà alla storia, perché la Villa Ludovisi Boncompagno è una delle ville più spettacolari del barocco italiano, viene sottoposta a un cadriage geometrico e ridotta a scacchiera, tuttavia servirà proprio come servizio per gli alberghi, i più grandi, più sontuosi alberghi della città si troveranno proprio in quell'area. Ecco, questa è un'immagine di Porta Pia, è un'immagine sistina, siamo intorno tra gli anni 1580-1590, Monte Cavallo, ancora ovviamente manca l'obelisco, il Quirinale è in costruzione, c'è la Fontana del Mosè che ha voluto Sisto V, sono giardini, queste sono le terme di Diocleziano con il casino del Cardinale di Ubellè che ha usato l'esedra delle terme per modellare in maniera capricciosa il suo giardino e la grande porta che fa da contrappeso ai due monumentali di Oscuri della città. Bene, questa immagine è destinata a venire cancellata, obliterata per sempre. il colossale Ministero delle Finanze, questo guardate la piccola, sono le casette dei monaci del convento benedettino di Santa Maria degli Angeli, vedete la città sparute, Villa Patrizzi, sparutissime preesistenze e questa colossale macchina che in realtà però ha delle dimensioni fuori dal comune, ospita dai 600 agli 800 impiegati, quindi corrisponde. Però vedete che ha la ripresa molto blanda, molto semplificata, di un palazzo all'italiana, le corti sono tre, la corte centrale è una corte d'onore porticata, le altre non lo sono, gli angoli sono rafforzati da specie di torre con dei piccolissimi belvedere. Il linguaggio è un linguaggio scarno, molto semplificato, è il linguaggio in fondo che potete vedere anche nelle case laggiù in fondo. Da questo momento si chiarisce la strategia che verrà seguita in maniera piuttosto interessante attraverso i decenni. L'edilizia mette a punto un suo linguaggio rigoroso, semplificato, modellato su questo linguaggio, sul linguaggio del fine 500, inizi 600, quando prevale, qui siamo un po' più tardi, ma ormai è consolidato, in cui tutto l'apparato decorativo è affidato ai momenti di congiunzione, agli elementi di passaggio, di finitura, nei punti in cui c'è una discontinuità. Le finestre, la linea marca piano, la linea marca davanzale, una semplice cornice con un fregio, possibilmente, in questo caso, si tratta di Nobili, è un fregio parlante con le aquile e i draghi, ma potrebbe essere anche un fregio molto semplificato, come nelle scuderie, con delle semplici mensole. Questo sarà il linguaggio di Roma Capitale, il linguaggio modellato sui manuali, quelli trattati, quello di Vignola, di Palladio, di Scamozzi, di Serlio, che sono usati in tutta l'Europa del Cinquecento. È una scelta strategicamente geniale, quasi diabolica, diabolica, perché non c'è italiano che non abbia visto una finestra edicola, in questa maniera, nella sua città. E quindi, arrivando a Roma, ritrova, nell'architettura feriale romana, gli elementi che già conosce. Si trova cittadino di Roma e l'esploit formale viene invece riservato agli edifici, che hanno un valore simbolico. Non il Ministero delle Finanze, per ovvie ragioni. La simbologia delle finanze, dato che le imposte, le tasse, i dazzi, passavano da lì, non era tra le più amate. E, naturalmente, a Quintino Sella viene riservato il posto d'onore sulla facciata principale, ma il passaggio, il raddoppio, poi, della linea del tram costringerà a spostare il monumento con la legge e il genio della finanza che sottostanno alla figura imponente di Quintino Sella sulla parte di Via Cernaia, cioè sulla facciata posteriore. In fondo, a questo asse direzionale, la prima ambasciata straniera, l'ambasciata inglese, già nel 1870 e si pone nella palazzina Torlonia, Duchi di Bracciano, una palazzina neoclassica a ridosso di Porta Pia. Palazzina che verrà fatta saltare la notte del 31 ottobre del 1946 dai terroristi israeliani e che mettono la bomba, una carica pazzesca di tritolo di notte pensando che non ci fossero impiegati che in effetti non c'erano ma tre italiani passavano sul marciapiede e lasciarono la vita. I resti della palazzina che era tutt'altro che ignobile aveva degli interni fastosi e molto eleganti neoclassici sono stati azzerati per venire sostituita con una singolare architettura coloniale che tutti noi conosciamo che starebbe forse abbastanza bene a Nuova Deli che è molto sconcertante vicina a Michelangelo tuttavia l'architetto Basis Spencer è stato nominato Sir grazie a quella schifezza che ci ha lasciato qui. Gli alberghi si trovano su Via Veneto come questo l'hotel Excelsior ideato da Otto Maraini svizzero un architetto svizzero il cui fratello proprietario della Villa Maraini dove oggi si trova l'istituto svizzero era in realtà un capacissimo immobiliarista altri alberghi sorgono per esempio a Via delle Terme il Grandotè che tutti conoscete oggi San Regis costruito dall'architetto Podesti figlio del grande discorso pittore che è l'autore anche del Policlinico lì il committente è Ritz un cameriere svizzero che aveva capito che il futuro poteva riservare delle buone sorprese a chi si occupava di ospitalità secondo Asse Via Nazionale questo non esisteva proprio se lo inventa il Demerod questa è una pianta dei primi decenni dell'Ottocento vedete questo qui è Sant'Andrea il Quirinale tanto per avere un'idea questo è San Carlino alle quattro fontane questa è la poverina è la chiesa di San Vitale che serviva era affidata alla gestione tutto questo era il noviziato dei dei gesuiti e il resto erano vigne tra l'altro vigne con un'altimetria molto sommossa viene tracciato sul tavolo esattamente come si farà per Villa Ludovisi una strada che non tiene conto delle altimetrie per cui la chiesetta di San Vitale adesso è sprofondata di 5 metri nessuno va mai a vederla perché non viene nemmeno in mente rispetto al palazzo delle esposizioni che si trova qua questa strada però parte avvantaggiata perché ha le terme di Diocleziano proprio in fondo una chiesa Demerod era un arcivescovo e il fuoco delle strade dovevano essere chiese ma Demerod viene scalzato si fa per dire dagli italiani ed ecco che cosa diventa diventano le vigne che erano tagliate da via Quattro Fontane la strada felice che univa Trinità dei Monti a Santa Maria Maggiore in realtà si trova tutto frantumato il Viminale il Ministero degli Interni e tutta poi una serie questo è il Ministero che abbiamo già visto della Difesa sull'altra strada questo è l'asse scientifico e della cultura Sella lo volle a suo tempo e verrà perseguito parte da Piazzese e da dove il disegno delle terme dilatato dal di Vellè viene ripreso questo disegno l'ho messo perché ci fa capire come quegli edifici assolutamente inusuali a Roma i portici non si usano da Sisto IV in poi cioè dalla metà del Quattrocento secondo la metà del Quattrocento c'è la proibizione draconiana di costruire portici i portici sono luoghi mal illuminati di giorno bui pesti la notte dove si possono commettere atti pericolosi omicidi meretrici e quello che vi pare e quindi i papi li proibiscono l'unico portico che c'era nella Roma papale era quello di Palazzo Massimo alle colonne avevano come attributo privilegio il fatto che il loro nome era legato ad avere un portico e quindi nel 1532 gli viene concesso di ricostruirlo invece il Coq non si fa spaventare e progetta portici dappertutto pensate Piazza Vittorio è tutto un portico sembra Torino Piazza Esedra è tutto un portico non c'ha niente a che vedere con Roma inoltre questi portici lo vedete molto bene qui non sono veri e propri palazzi in profondità sono facciate a spessore che inglobano gli edifici che ci sono in precedenza in questo modo molto rapidamente si procede è quello che fa Vasari agli uffizi si procede alla messa a punto di una quinta viaria o di piazza in tempi relativamente brevi ecco come si presentava allora naturalmente ci siamo resi conto da quello che vi sto dicendo che l'accesso alla città non è più da Piazza del Popolo Piazza del Popolo lo vedremo è l'asse di Via del Corso l'asse del Diporto l'asse commerciale eppure per secoli si arrivava a Piazza del Popolo era lì la regina Cristina da lì entra dalla Svezia in realtà l'avere posizionato la stazione ferroviaria 1869 Pio IX un anno prima di venire spodestato costruisce la stazione Termini averla posta in questa zona est perché era la stazione che collegava a Frascati naturalmente sposta completamente gli equilibri della città e la città comincia non più a gravare su nord ma a gravare verso est e resterà un indirizzo che continua tutt'oggi anche oggi se voi andate verso est prendendo la Tiburtino la prendestina quello che pare a voi trovate i nuovi quartieri che continuano a svilupparsi la stazione ottocentesca è una modesta stazione che ha davanti però un obelisco un obelisco che ci consente più o meno di datare perché è l'obelisco che ricorda i 500 caduti ad Ogali in Somalia un obelisco che verrà poi spostato qui nel 1925 però rimarrà idealmente perché la piazza continua a chiamarsi piazza dei 500 la stazione avrà un destino molto controverso il fascismo demolisce la stazione di Salvatore Bianchi che era un interessante esempio di architettura del ferro Ghisa con architettura laterizia un po' come l'ospedale militare al ceglio dello stesso architetto e affida all'ingegnere delle ferrovie Angelo Mazzoni il rifacimento e l'ampliamento della ferrovia di Termini Mazzoni farà queste due ali poi nel 1943 i lavori si interrompono e Mazzoni compie il madornale errore politico ma anche morale di mettersi al servizio del governo nazifascista che aveva occupato Roma questo gli costerà l'epurazione se ne andrà in Sud America il suo progetto di testata che prevedeva Capitelli con la testa di Mussolini quindi imbarazzante comunque già in epoca mussoliniana figuriamoci nel dopoguerra verrà accantonato verrà fatto un concorso vinto dal gruppo Calini Montuori e altri e che regalerà a Roma una delle stazioni più luminose ed eleganti del dopoguerra ma torniamo all'asse di via nazionale l'asse in fondo vedete che ancora c'è la chiesa settecentesca la facciata che ancora Munoz non aveva spolpato per portarla alle murature originarie e manca qui ancora la chiesa di Saint Paul che verrà costruita successivamente il linguaggio che voi vedete è quello di cui vi parlavo è un linguaggio compassato sostanzialmente uniforme in cui al massimo esce un balcone con delle colonne semi alveolate niente di più cioè c'è una la città si costruisce attraverso blocchi uniformi e compatti e da lì usciranno poi le emergenze simboliche rappresentative e qui vediamo i due teatri il piccolo e il grande Eliseo ricavati ai piedi del giardino Rospigliosi e la strada della cultura il giardino Aldobrandini che in realtà si trova molto più alto di quanto non fosse e poi qua giù lo vedremo meglio il palazzo delle esposizioni a via Panisperna cioè in una traversa poco lontano ci sarà il centro di studi fisici dove Fermi e il suo gruppo arriverà a risultati di importanza capitale e nel convento espropriato di San Pietro in vincoli verrà messa la facoltà di ingegneria sempre su indicazione di Sella e poi perseguita da chi seguì come Nathan dove tuttora si trova e in seguito a concorso viene Sella insiste moltissimo perché è convinto che l'arte e la cultura facciano la forza e l'unità del paese e quindi ci deve essere un palazzo per le esposizioni vengono fatti due serie di concorsi alla fine prevale il progetto di Pio Piacentini questo palazzo singolarmente non ha mai attirato scandalo o controversie se voi chiedete nessuno vi dice che lo trova bello ma nessuno si sente offeso dalla banalità in fondo della soluzione architettonica è un arco di trionfo semplicemente dilatato con due ali opache che ci comunicano che la luce è presa dai lucernai in modo da essere costante e scandite da lievi le sedere in travertino contrappuntate da queste specchiature in intonaco è un edificio con un podio che in realtà non occupa tutto il palazzo ma solo la parte centrale è un edificio non memorabile che ha tuttavia una sua penetrante un suo penetrante accordo con Roma perché Pio Piacentini che non è un architetto memorabile a differenza del figlio è tuttavia un grande conoscitore dell'architettura romana l'architettura romana si muove per masse si muove per masse e per vacui non si muove per pellicole per superfici e quindi sfonda Pio questo arco di trionfo dandogli effettivamente una sorta di vertigine orizzontale che ne riscatta la prevedibilità diciamo dell'impaginato architettonico poi ci sono ovviamente bassorilievi statue un delirio questi saranno una meravigliosa caratteristica dell'Italia Unita che ha bisogno di mettere in simulacro tutto quello che l'ha fatta perché non sono così sicuri di avere fatto bene e le statue sono le quattro arti la pittura la scultura l'architettura e il disegno industriale ed è un segnale delle cose che stanno cambiando stanno sorgendo gli istituti industriali lo stesso Piacentini ne sarà autore dell'ampliamento del Galileo dove si insegnano le arti con generi le arti applicate cioè dove si creano quei meravigliosi artigiani che avevano fatto la fortuna di Roma barocca e la cui sapienza manuale intellettuale si andava perdendo la facciata non soddisfa l'estetica e il desiderio di autorappresentazione del fascismo tanto che per la mostra della rivoluzione fascista Libera e De Renzi ricorreranno a un carter che sarà lasciato per due anni e che non solo ne cancella che sarebbe niente ma in qualche modo contraddice in maniera quasi uno sberleffo a questa architettura questa è un'architettura fortemente stilizzata guardate la tripartizione della serliana dell'arco viene riportata sembra un quadro di Sironi tenete presente poi che è tutto nero e la scritta è rossa quindi al pallore di Travertino vero e simulato di Piacentini invece si risponde proprio con un contrasto tra nero opaco nero lucido e rosso lucido quindi un mondo completamente un mondo estetico formale di gusto ma anche di pregnanza simbolica completamente nuovo e diverso intanto però la città scopre che è una cipolla cioè che se si sbuccia sotto si trova uno strato e se si toglie quello se ne trova un altro e poi via e questo porta questo è il delirio permettimi Michelle è il delirio degli archeologi e si comincia a sbucciare Roma qui noi vediamo Largo Magna Napoli la torre delle milizie delle signorili o comunque inoffensive case settecentesche che vengono abbattute per ritrovare una parte del foro Traiano poi chiamato sbrigativamente mercati di Traiano e che oggi abbiamo e quello è un altro percorso che io non affronterò però non si può capire Roma oggi se non si tiene conto che a un certo punto Roma cipolla fu una delle strategie che condussero la crescita della città la parte tra Magna Napoli e Piazza Venezia viene sacrificata con il grande Palazzo Torlonia vedete Caffè Venezia che se ne va giù qui c'era il teatro nazionale e questo è un disegno che è interessante perché ci dà un po' l'idea di che cosa doveva essere Roma in quegli anni Roma dal 1870 al 1910 12 è un cantiere ma non è un cantiere come si intende un cantiere di costruzione è un cantiere a doppio registro è un cantiere di demolizione è un cantiere di ripristino ed è un cantiere di costruzione ex novo quindi lavoro ricchezza diciamo soprattutto per chi ha capitali che si diffondono e che irradia il più grande affare d'Europa si creano nuovi assi in modo da convergere tutti verso Piazza Venezia questa è la cupola dei Gesuiti e in questa finestra tra il 1870 e il 1929 in cui Stato e Chiesa ufficialmente non dialogano le Chiese le confessioni cristiane ma non cattoliche che non avevano avuto legittimità e accesso a Roma ne approfittano quindi due Chiese Valdesi abbiamo visto la Chiesa Evangelica di San Paolo eccetera eccetera finalmente i russi perdono il treno comprano il pezzo di terreno per costruire sul lungo Tevere di fronte a Prati per costruire la loro Chiesa ma scoppia la rivoluzione sovietica e la Chiesa verrà costruita vicino a Villa Bamalek pochi anni fa no? una Chiesa ortodossa questa questa era piazza Venezia con il giardino pensile il palazzetto Venezia che era collegato da un passetto alla alla torre di Paolo III un palazzo che Paolo III si fa costruire nelle falde del Campidoglio questa pianta è quella che ci serve per far capire come da piazza Venezia parte attraverso una serie di demolizioni il nuovo asse che porta a Castel Sant'Angelo che poi qui verrà modificato e porterà al ponte Vittorio Emanuele cioè Corso Vittorio Emanuele questo è uno dei progetti delle demolizioni e delle regolarizzazioni non tutte saranno fatte per esempio la strettoia tra la chiesa del Gesù e palazzo altieri resterà la strettoia ancora oggi è un punto di imbottigliamento perché gli altieri riuscirono a evitare che venisse affettato il loro palazzo quindi a questo punto noi abbiamo la città che ha il suo ingresso l'equilibrio della città è spostato e via del corso è la via diventa la via del diporto per certi versi questa era la via del carnevale quindi aveva una tradizione in quel senso però il fatto è che non è più la via di arrivo a Roma non si arriva più a Roma da porta del popolo e quindi la strada viene reinventata come asse commerciale e si incomincia con la costruzione vedete c'è il cantiere questo è Palazzo Chigi dei grandi magazzini alle città d'Italia i magazzini Bocconi se voi guardate dove oggi c'è Zara in alto sul fregio c'è ancora una scritta in bronzo alle città d'Italia era il nome dei grandi magazzini prima che D'Annunzio trovasse che Rinascente era molto più convincente aveva ragione e i Bocconi accolsero la nuova denominazione eccolo qua alle città d'Italia c'è scritto il nuovo palazzo Giulio De Angelis e l'architetto un grande magazzino moderno non è grande come quelli parigini però ha una sua dimensione del tutto rispettabile c'è anche qualche importante sacrificio in particolare il palazzo Piombino palazzo Boncompagni qui siamo a Piazza Colonna questo è il palazzo Ferraioli del Bufalo questa è la chiesa dei Bergamaschi quindi noi stiamo lo vediamo da Montecitorio c'era questo palazzo che viene sacrificato per costruire una grande galleria che doveva andare da qui fino a Fontana di Trevi doveva essere un unico impianto di galleria vetrata che non viene poi costruito anche perché le opposizioni non sono insensate cioè la gente chiedeva ma che facciamo con una galleria vetrata in una città in cui il sole c'è per undici mesi l'anno perché dovremmo andare sotto quindi alla fine il progetto si restringe ed è la galleria che oggi chiamiamo Alberto Sordi che vedete qui in basso e vi dicevo della normalizzazione le case che si trovavano nelle strade principali ma anche nei vicoli a Roma avevano più o meno questo aspetto e la raccomandazione che viene fatta dal comune è quello di una normalizzazione compassata composta non ci devono essere e lo si vede funziona questo e se ne rende conto è una cosa che gli artisti colgono perfettamente questo è un quadro di Francesco Trombadori è la barcaccia vedete la colonna dell'immacolata di cui parlavamo e l'aspetto che Trombadori coglie di questa città che è vuota è anche che questi fronti differiscono semplicemente per i cromatismi ma sono uniformi compassati compatti e uniformi l'ultimo asse è il Tevere attraverso i muraglioni il Tevere viene imbrigliato smette di invadere periodicamente due volte l'anno come faceva ad abitudine la città che perde però il suo rapporto affabile con l'acqua prima nel video abbiamo sentito parlare di una ipotesi di Water City perché in effetti Roma ha perso ce l'ha con le fontane ma col fiume lo ha praticamente perduto questo rapporto e però naturalmente io ho messo solo questa immagine della costruzione dei muraglioni perché dà l'idea di che cosa comportasse cioè i muraglioni non si tratta semplicemente di rafforzare le sponde del Tevere ma si tratta di tagliare abbattere diverse case che entravano o meglio nascevano dal Tevere compresa l'abside di San Giovanni dei Fiorentini Giovanni Battista usciva dall'acqua simbolicamente vengono invece costruiti terrapieni vengono isolate e il risultato è il fatto che si cambia molto pesantemente la morfologia di quella parte di città che è legata al fiume e si sacrificano anche degli edifici importanti se voi andate a Trastevere trovate questi nomi di strade che in realtà per esempio c'è via del Politeama a Trastevere non c'è un Politeama ma c'era c'era vicino al Ponte Sisto ai piedi del Ponte Sisto c'era un teatro in legno un teatro popolare che si chiamava Politeama e che comunque aveva mille posti e che ovviamente veniva quando c'era l'alluvione era legno veniva smontato e poi rimontato quello ovviamente scompare però la toponomastica in questo Roma è molto consapevole del peso della memoria e lascia le tracce nella toponomastica di ciò che c'è stato e i muraglioni ci hanno restituito in qualche modo l'idea di una presenza del fiume attraverso l'installazione che è stata fatta due anni fa da Kentridge che racconta anche lui attraverso icone significative tutta la storia di Roma e lo fa usando una tecnica che è narrata da Vasari che è la tecnica dello sgraffito solo che quello che toglie Kentridge non è lo strato superfluo superiore d'intonaco che viene messo in funzione dell'essere elevato ma è la sporcizia cioè Kentridge usa la sporcizia depositata a riprova che l'ingegno e l'immaginazione artistica può tradurre in bellezza anche un elemento diciamo francamente schifoso come sono i residui che il fiume un fiume poi così denso come il tevere può lasciare sulle sue sponde e tra le storie tra i momenti della storia di Roma Kentridge mette la dolce vita mette ovviamente elementi mette il Marco Aurelio ma mette anche Pierpaolo Pasolini e adesso ultimo allora qui abbiamo la stazione le sedere i nostri assi ma il problema a questo punto la città comincia a funzionare ci sono delle difficoltà ma comincia a funzionare gli assi sono differenziati si attrezzano eccetera però manca manca un edificio che la rappresenti che faccia capire a chiunque appena arriva che non c'è più il Papa c'è un'altra cosa c'è un re che sta al Quirinale nella reggia del Papa e che comunque c'è un governo con una democrazia limitata qual era quella per censo ma comunque c'è un cambiamento molto radicale e di questo sono consapevoli i padri fondatori perché nell'urgenza di avere delle sedi per gli organismi parlamentari si adattano a edifici preesistenti Roma aveva degli edifici splendidi quindi si trattava semplicemente di acquistarli o di espropriarli il senato viene messo nel palazzo medici madama a piazza Navona e il parlamento viene accomodato nella a Montecitorio e quindi poi verrà ampiato ma sono palazzi che non parlano del nuovo popolo italiano che ha la sua capitale unitario parlano dei medici che hanno avuto due papi e che si erano fatti un'idea di reggia in cui il cortile doveva essere piazza Navona parlano della Montecitorium di Bernini di Carlo Fontana di Alessandro VII non parlano di Mazzini non parlano di Cavour non parlano della Nuova Italia e quindi si sente questa esigenza ed è proprio la prova di quanto l'architettura sia la più sociale delle arti lo si dice sempre ma io credo che forse dovremmo riflettere su questa affermazione e il Dossi lo scrive in maniera esplicita bisogna trovare il modo di costruire un monumento che sia visibile da tutte le parti di Roma come lo è lo abbiamo visto in quell'immagine di Porta Pia come è la cupola di San Pietro che possa gareggiare pareggiare superare San Pietro si pensa a un certo punto di mettere la Camera dei Deputati in via nazionale si fa un concorso ma le condizioni lì del terreno non sono quelle più adatte e alla fine si arriva all'idea di costruire un monumento che non ha una funzione pratica concreta se non quella simbolica è il luogo che ricorda il padre della patria Vittorio Emanuele II viene fatto un concorso ed è questo un concorso di senato ecco questa era la soluzione che era stata trovata per l'ampliamento della Camera dei Deputati Basile è un architetto elegantissimo ma è evidente che un impianto di questo genere non ha nessuna carica simbolica non parla l'italiano unitario ha un'aria è un impaginato elegante quanto se volete fungibile potrebbe stare sia a Parigi che a Bolzano che a Palermo e non perché Basile è palermitano ma perché fa appello a quella coine internazionale figlia del Liberty che lì in quel momento non serviva serviva un'altra cosa e viene fatto un primo concorso in cui tutti possono partecipare anche se non sono ingegneri architetti non importa ognuno dà la sua idea chiunque può essere l'autore del monumento che ci rappresenta tutti è un'idea a proposito di populismo un'idea populista destinata ovviamente a fallire generosa destinata a fallire il concorso e in quella idea vince il progetto di Nenot che sfrutta una situazione che esiste naturalmente si dice subito no ma come l'edificio che rappresenta l'Italia viene fatto da un francese da un francese i francesi erano quelli che hanno per vent'anni impedito no allora viene rifatto il concorso e viene vinto da un marchigiano è un edificio sul quale è stato detto tutto il peggio che si può dire quindi io però vi invito a non considerare ciò che è dato per scontato cioè l'altare della patria è brutto no non è così che si valuta un edificio che cos'è l'altare della patria prima di diventare il luogo in cui è inumato il milite ignoto che rappresenta tutti coloro che si sono sacrificati perché noi possiamo stare qua è il luogo che deve ricordare agli italiani quanto c'è voluto per arrivare ad avere Roma come capitale dell'Italia nazione deve essere visibile quando si arriva alla stazione si imbocca via nazionale si deve vedere e si vede non si vede la cupola di San Pietro fate la prova cioè c'è stata una sapienza prospettico topografica straordinaria ma che cosa deve contenere cosa ci si deve fare dentro questo è buo non lo sapeva nessuno cosa si deve fare si deve camminare e a Roma c'è la scalinata di piazza di Spagna ai romani ai romani piace stare al sole nelle scale una scalinata può essere quindi una scalinata c'è un passeggio un bel vedere Roma è la città delle altane quindi mettiamo un'altana grande un bel vedere e comincia a nascere questa idea poi soprattutto proprio in questo periodo a Berlino questa è la prova di quanto è stato a Berlino viene rimontato viene costruito un museo apposta in cui viene rimontato l'altare cioè tutto quello che è stato trovato in una forma che allora si praticava di anastilosi l'altare è dedicato a Zeus e ad Atena l'altare di Pergam che è composto da un percorso sommitale colonnato da due ali avanzate e da una solenne scalinata che invita all'ascesa questo edificio ebbe una influenza straordinaria sull'immaginario dei progettisti degli architetti di tutta Europa e anche Sacconi non si è sottratto anche perché per gli italiani c'era un precedente confrontabile che era l'altare il tempio di palestrina nelle ricostruzioni cinque seicentesche tipo quella che vediamo qui e quindi l'altare della patria è figlio di quella cultura che scopre la grazia l'eleganza la trasparenza dell'architettura ellenistica non si limita a scoprirla là nei luoghi in cui essa si trova ma se la porta a casa se la porta nelle nebbie di Berlino la fa propria e anche Roma la fa propria Roma poi gli viene anche più facile se vogliamo e però non erano così sicuri che sarebbe avrebbe funzionato no? e quindi fanno ricorso a una tradizione che è continuata fino all'Eur che è quella del modello in scala io mi chiedo siccome anche per Palazzo Farnese il cornicione di Palazzo Farnese Michelangelo se lo assicura grazie a Vasari che gli monta il modello in legno di quei due metri e quaranta di aggetto era questo cioè il modello in scala in legno io mi chiedo se l'abilità degli artigiani di cinecità che è leggendaria non abbia radice e prodromi in questa tradizione dei modelli linei parziali che servivano per misurare anche a chi non era in grado di immaginare attraverso i disegni l'effetto di un'architettura che avrebbe cambiato l'immagine della città Sacconi muore muore presto muore nel 5 l'edificio andrà avanti fino al 1925 e saranno loro la Troica portarlo in fondo e poi Brasini aggiungerà una una parte ecco l'immagine anche dell'edificio in costruzione io la trovo molto interessante perché vedete perché ci sono delle parti completamente finite a parte la bellezza delle impalcature con gli elementi per l'appoggio della trabeazione ma la cosa che mi interessa il motivo per cui ho messo questa immagine è sia per la sua parentela e familiarità con le rovine le rovine romane delle termine dei fori ci muoviamo in una dimensione grande in una dimensione eroica non è la dimensione umbertina borghese quella a cui Sacconi guarda è quella con la quale anche noi continuiamo a giudicare questo edificio quando noi diciamo è brutto o è una macchina da scrivere ma noi siamo pantofolai non riusciamo a vedere al di fuori della nostra stanza e della macchina da scrivere questa è l'idea che aveva Michelangelo Michelangelo sognava nella cupola lo fa un grande blocco di marmo bianco questa è la parete delle cave di Carrara che viene modellata togliendo il marmo e dandogli una forma che richiama gli dèi quegli dèi a cui Roma deve la sua fondazione e la sua esistenza e Sacconi a quella fa riferimento e contrappone la trasparenza leggera lieve cadenzata dalle colonne elegantissime tra l'altro io vi consiglio di guardare da vicino questo edificio il livello delle finiture e delle cornici è assolutamente straordinario ed è fatto in funzione della luce di Roma che è la luce più carezzevole che si possa trovare a differenza di quella di Firenze che è traditora come diceva Artemisia Gentileschi e quindi a questa parte si oppone una parte pesante chiusa solida nascosta di cavità come sono le caverne che scavano il sottosuolo di Roma le catacombe le caverne da cui è stata tratta la materia con la quale poi Roma è stata costruita Sacconi ha questa idea geniale di contrapporre un mondo octonio nascosto da una coltre bianca invece a un'altana trasparente da cui si può vedere tutta Roma e tutta Roma la può vedere vi ho messo questo perché la storia quello che io dico può non avere senso ma Sacconi era impregnato della storia di Roma qui a Napoli era senatore gli mandano un telegramma che c'è la questione dell'Africa in ballo e lui sul telegramma disegna il basamento della statua di Vittorio Emanuele II e lo disegna ripercorrendo eccolo qua vedete è un basamento stondato ripercorrendo le forme esattamente le forme che Michelangelo aveva esperito per il basamento nel 1538-39 del Marco Aurelio alias Costantino che vedete con la sistemazione di Mugnoz prima che venisse rifatto il disegno di Michelangelo che conoscevamo ma che non era mai stato eseguito e l'interno l'interno è veramente questo mondo tellurico che c'è che noi abbiamo sotto i piedi è in fondo quello che ha ispirato anche Kentridge in questa sua visione notturna di luci e di musiche scavata dentro il corpo della città vicino alle acque del fiume e gli interni sono questi sono interni elegantissimi come è tutta elegante questa costruzione non lasciatevi ingannare dal fatto che non è razionalista certo che non è razionalista anche se viene inaugurata nel 1925 e mandata all'esposizione di Parigi a rappresentare l'Italia ma è concepita in realtà nel crogiolo del 1870 in quel momento che va letta e va vista e va capita in quel momento e non giudicata bella o brutta da abbattere o macchina da scrivere non è una macchina da scrivere è un'architettura di città è un'architettura fortemente simbolica e non a caso ci si fanno le foto le coppie di sposi e quello è un segnale quando gli sposi con tutto il veleggio bianco si pongono davanti a un edificio quell'edificio guardatelo con un altro sguardo non ho finito però posso finire qua ma non vuol dire niente allora dalle spalle vedete che anche alle spalle questo disturba la si vede scusate qua potrebbe essere fatto con più garbo mi dispiace è così però è utile e comunque è un bel vedere in cui si vede tutta la città anche sui e si vede da tutta la città e l'altro scandalo non la bellissima casa del mutilato che non frega niente a nessuno se non ai cinematografari che la usano sempre come set perché ha gli interni più sofisticati secondo me degli anni del fascismo ma è la macchina della punizione sul palazzo di giustizia bisogna tener conto di alcune cose intanto è commissionato letteralmente da Zanardelli Zanardelli aveva messo mano anche all'altare della patria che è in botticino cioè la pietra di Brescia da cui viene Zanardelli su questo sono state fatte diverse illazioni che noi non affrontiamo questo invece centravertino con una parte di botticino secondo me avanzato dall'altare della patria ma l'edificio però è un edificio che cosa è un palazzo di giustizia cioè perché a questa italietta c'è bisogno di manifestare una giustizia così imponente così forte titanica e beh si veniva da una variegazione di regimi giuridici assolutamente imprevedibile ancora c'erano piccole enclave feudali in cui nell'Italia dell'ottocento ognuno aveva un tipo di amministrazione della giustizia legato all'arbitrio i sacerdoti che commettevano reati venivano giudicati con codici e tribunali diversi dai laici per lo stesso reato capite che la giustizia era perfino più importante del conio della moneta in questo caso e Zanardelli nel 1887 scrive e fa approvare in senato il nuovo codice penale in concomitanza con la posa della prima pietra del palazzo di giustizia viene fatto un concorso viene vinto da Calderini un umbro di Perugia lasciamo perdere tutte le controversie che ci sono sulla costruzione è un edificio molto semplice è un quadrato con tre grandi con due grandi una grande corte d'onore e una corte secondaria con i due percorsi che si incrociano si raccordano verso la corte d'onore poi ci sono otto corti sussidiarie che sono semplicemente di ventilazione e di illuminazione il palazzo sarà più basso di come era stato previsto perché in questa zona il terreno è un terreno in fido e per quanto lo si consolidi il peso del travertino stava provocando seri danni quindi in corso d'opera si leverà un piano tranne che nel corpo centrale di facciata questo è completamente diverso dall'altare della patria qui le funzioni ci sono sono molto chiare e vanno dalle prigioni dove vengono gli imputati vengono portati lasciati in prigione e poi portati su ad essere giudicati cioè negli intervalli in cui ci sono le sospensioni non è che l'imputato se ne può andare in giro viene rimesso in gattabuia cioè sotto ci sono gli uffici per tutte le gerarchie della magistratura e per gli avvocati cioè lo schema funzionale distributivo era consolidato si trattava di attribuirgli una carica persuasiva e Calderini lo fa facendo ricorso a un'architettura il contrario dell'altare della patria là era la leggerezza ellenistica le fanciulle che danzano in forma di colonne sull'attico qui è un'architettura muscolare molto forte è un'architettura che guarda all'ordine a Giulio Romano Giulio Romano del basamento di Villa Madama ma Giulio Romano anche di Palazzo Tè lo vedremo a queste robuste colonne che sono rese ancora più pesanti massicce persuasive della loro imponenza da dei grossi rocchi rugosi appena scalpellati di travertino è un'architettura intimidatoria volontariamente intimidatoria drammatica perché viene squarciata in questo punto e solo passandoci e guardando con attenzione qui vedete che si vede la scala questa cosa che si vede dietro questo è uno sfondamento come quello di Pio Piacentini nel Palazzo delle Esposizioni ma molto più teatrale ed efficace perché non sfonda verso una porta sfonda verso un cortile dove si trova il fuoco plastico e prospettico di tutto l'edificio lo scalone d'onore questo è il fronte secondario meno drammatico in cui gli ordini si avvicendano e si ingentiliscono come potete apprezzare qui l'abbiamo detto qual è il modello il precedente non il modello il precedente è il Palazzo di Giustizia di Bruxelles che è un'opera molto amata in Belgio costa tantissimo di manutenzione e viene sempre confrontato perché effettivamente Bruxelles è piatta c'è solo un piccolissimo elemento altimetricamente sommosso su cui si trova e domina tutta la città il Palazzo di Polaerta però a differenza del nostro c'è questo grande basamento che sorregge poi uno pseudo tamburo quadrato su cui si innesta la la cupola in realtà questo elemento è molto piccolo rispetto al basamento è incongruo e fragile cioè è l'idea di questo che non avrebbe mai voluto fare Calderini giustamente di riportare la giustizia a una matrice divina sottraendola invece all'esercizio del patto sociale tra uguali e ecco la giustizia è pesante è uguale per tutti ma è pesante è una giustizia implacabile e il coronamento cioè anziché le mensole l'aggetto del tetto è retto dalle teste dei tori soggiogati è un messaggio tutt'altro che benevolo è un messaggio che richiama al fatto che bisogna temere la giustizia vi ricordo che l'Italia era funestata dal fenomeno del brigantaggio è giusto per avere un po' un'idea di come certe cose poi si possano leggere la potenza di questa architettura che si misura sia nel complesso che nei dettagli prima vabbè non torna indietro non fa niente vi parlavo di Giulio Romano ma vedete anche gli interni in costruzione terminati quella potenza che abbiamo visto la ripresa della massa muraria che è tipica della grande architettura romana qui diventa molto presente e soprattutto un dato caratteristico adesso vi passo velocemente ecco questo è il nucleo centrale è lo scalone d'onore nel cortile d'onore e se guardate le dimensioni delle persone c'è una profusione di statue perché questo non è solo il palazzo in cui si amministra la giustizia questo è il tempio del diritto romano ci sono le statue di tutti coloro che dalle origini dalla nascita del diritto romano fino all'ottocento hanno dato un contributo alla costruzione di civiltà che tutto il mondo riconosce alla romanità gli interni sono una vera sorpresa e vi consiglio caldamente di chiedere ci sono visite che guidate c'erano almeno perché vale veramente la pena cioè Calderini progetta un'intersezione prospettica verticale e orizzontale per cui voi praticamente in quei corridoi che vi ho fatto vedere che si incrociano avete contemporaneamente una prospettiva orizzontale e una prospettiva verticale nei due sensi è un effetto che raramente si ha nell'architettura e per poterlo avere bisogna fare ricorso a degli anelli e dei pozzi come questi affacciandosi dal pozzo questo è quello che si vede ed è funzionale la luce viene dal lucernaio attraverso il pozzo illumina il corridoio inferiore questo passaggio è il sogno è il sogno di Piranesi prospettive che si intersecano da tutte le parti dove ci si perde e Piranesiano è questo palazzo lo è nel suo usare i frammenti Piranesi sbriciola gli edifici romani e li ricompone poi in maniera assurda per certi versi ma anche estremamente emozionante che apre o consente al frammento di esercitare tutta la sua potenzialità evocativa e la stessa cosa fa Calderini con i frammenti della grande architettura romana cinquecentesca settecentesca non sta a guardare un purismo stilistico che non gli interessa minimamente e gli interni sono particolarmente affascinanti per questi sfondamenti prospettici continui e per la ambiguità che essi hanno perché noi vediamo i frontoni vediamo le scale che si avvicendano e che trapassano i portali il gioco delle luci poi c'è la grande sala la sala della corte suprema che è un colpo di teatro e là non so quanto consapevolmente ma è una matrice religiosa quella che interviene è suprema come l'ente supremo quindi forse anche inconsciamente Calderini si fa ispirare alla cappella alla chiesa palatina la cappella della regia di caserta le scale di servizio mantengono la stessa efficacia suggestiva che abbiamo visto negli altri interni e poi voi vedete i frontoni finemente lavorati cesellati nelle cornici con gli eleganti incastri dei blocchi di marmo e la parte posteriore astratta liscia fortemente tattile proprio come nella chiesa di Santa Maria del Priorato la gloria di San Basilio che da una parte è cesellata rifinita non cogliete la componente geometrica ma se andate alle spalle la divina geometria delle forme si rivela in tutta la sua forza suggestiva grazie noi siamo rapiti da questo da questo racconto meraviglioso che al di là del fatto che a tratti possa essere condivisibile è un racconto meraviglioso e capite perché noi abbiamo scelto diciamo Claudia ad aprire questa cosa io la ringrazio perché devo dire che è stata anche una maratona non indifferente cioè tenuto inchiodati il tempo è passato non ce ne siamo accorti no 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 va bene così va bene così e no è il più bel tributo che si possa dare all'architettura di cui nessuno parla e e tu ci consenti di di farne di parlarne in maniera così limpida e così elevata tra l'altro in un luogo pubblico che è il luogo che abbiamo deciso di frequentare per incontrare la città di Roma allora io direi non 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 c'è altro spazio siamo siamo sazi così ce ne andiamo avendo imparato tante cose e questo è un grande nutrimento e se voi vorrete domani sera proseguiamo con una lezione del professor portoghesi sul barocco e poi finiamo in bellezza il dopodomani con un'altra lezione sulla Roma antica del professor Quarelli grazie Claudia grazie a voi scusate Grazie.